Ore di campione pieno di energie Il sport di Ceno Game ci porta in una nuova dimensione Con passione e coraggio siamo pronti a brillare E Studio 7 e TV ci guida ad ogni passo Ad ogni sfida da affrontare Con orgoglio e con onore siamo pronti a dare il nostro meglio Con Pietro come guida Il nostro spirito non si rende mai Sport di Ceno Game e Studio 7 e TV L'intervista di Pietro, un cuore di un campione Ogni atleta ha una storia, ogni momento è un'emozione Con coraggio e con determinazione Studio 7 e TV e Sport Piceno Game presentano L'intervista di Pietro, ospite della vita Benvenuti a una nuova puntata, abbiamo ospite Parliamo del mondo doppiaggio, abbiamo un grande doppiatore qui Edoardo Stoffacciaro Un cognome con tante doppie A questo punto la prima domanda che ci sorge spontanea E se dovessi scrivere oggi chi è Edoardo? Come lo descriveresti? Ma la prima cosa che mi viene in mente Edoardo è un babbo felice Sono padre di una bimba meravigliosa E questo è quello che al momento attuale mi definisce di più Per il resto io mi definisco come mi sono sempre definito Un nerd con la fortuna, con la grazia veramente Di poter fare il lavoro che è la mia grande passione Fin da quando ero piccolo Quindi mi definisco un uomo fortunato Molto molto fortunato E passare dal mondo attoriale A specializzarsi nel mondo doppiatore Perché ogni volta lo ripetiamo la stessa frase È una specializzazione nel mondo attoriale E bisogna studiare e perfezionarsi Perché poi non si mette mai ad imparare Quando nasce effettivamente l'idea di trasformare il mondo attoriale E passare al mondo del doppiaggio? Ma allora io in realtà ho sempre avuto una passione smodata Per il doppiaggio Vedendolo fin da subito come una Semplicemente una branca del mestiere dell'attore L'attore doppiatore è un attore a tutti gli effetti Della sua performance viene fruita soltanto la voce Però quando si sta a leggio si recita Si recita con il corpo E come se si recita con il corpo Io ho finito dei turni più che sudato Insomma perché comunque l'apporto fisico deve sempre esserci Io ho sempre avuto questa grandissima grandissima passione Questa ammirazione incontenibile per i grandi doppiatori del nostro paese Quindi io nasco come fan del doppiaggio Talmente tanto ero fan che mai avrei pensato un domani di potermi avvicinare a questo mestiere Tanta era la riverenza con la quale vedevo appunto il mondo del doppiaggio Sembrava una cosa completamente impossibile Io ho iniziato a recitare a teatro a Viterbo nella mia città all'età di nove anni Con la compagnia Teatro di Carta di Elda Martinelli E crescendo poi ho avuto modo di recitare anche in altre compagnie locali Insomma più o meno professionali E di confrontarmi con colleghi attori di teatro più grandi, più esperti di me E quando mi confrontavo con queste persone Veniva fuori la mia passione, la mia ammirazione per il mondo del doppiaggio E i commenti che ne ricevevo erano quantomeno funesti Perché alcuni mi dicevano No, il doppiaggio è uno schifo perché poi ti dimentichi come si recita Diventi un impiegato, vai lì, ti imbri il cartellino e te ne vai Altri mi dicevano Sì, è bello il doppiaggio però Se non sei figlio d'arte, dimenticatelo Perché non ti fanno nemmeno avvicinare Comunque è tutta una casta, è una mafia I nuovi non entrano A meno che appunto non abbiano agganci Zeppe contro zeppe per poter accedere Perciò per me, per quello che ne sapevo io Il doppiaggio era proprio off limits Tant'è che a 18 anni poi Mi sono iscritto a giurisprudenza Per me l'avventura recitativa era finita con Con l'esame di maturità E invece mia madre che, lo dico sempre Ha sempre saputo molto meglio di me quello che volevo fare nella vita Ha trovato gli annunci delle audizioni per l'Accademia di Recitazione Diretta da Pino e Claudio Insegno Nella quale fra le varie materie insegnate C'era anche il doppiaggio insegnato da Massimo Giuliani Ho sostenuto il provino per entrare Sono entrato e da lì l'amore è sbocciato in tutta la sua violenza E non ho più potuto pensare di fare altro nella vita Ma è una passione, è un amore che c'è sempre stato Fin da quando ero piccolissimo A questo punto tu hai parlato del teatro Poi trovarsi davanti alla quarta platea che si apre Perché la platea quella si apre Cosa ricordi di quell'emozione Quando tu sali a volte qualche tuo collega Mi ha detto ma chi me lo fa fare salire sul palco Perché poi tu senti In realtà la platea non la vedi Tu senti, vedi il buio Però senti quell'energia che comunque Assolutamente Sale quella energia Che poi diventa risate Pianti A volte grida impropri Ma ci sono Qual è la tua Se ti ricordi quell'emozione Che cosa ti ricordi di quell'emozione provata su quel palco Che poi è cambiata Guarda in realtà negli anni Non è esattamente cambiata Anche quando mi è capitato recentemente di tornare in scena L'emozione era sempre più o meno la stessa Diciamo è cambiata la consapevolezza di quell'emozione Con l'esperienza Il pensiero è sempre stato Un attimo prima che si aprisse il sipario Ma che cacchio me l'ha fatto fa Ma perché sono qui Dio perché No Stanzia Fatemi sparire Fatemi andare a casa I primi tempi questa cosa mi creava dei problemi Perché dicevo Se io vivo così male l'apertura del sipario Forse è il caso che io smetta E poi ne parlai proprio con il mio maestro Massimo Giuliani Straordinario attore, doppiatore, direttore di doppiaggio Attore di cinema, teatro, televisione e teatro Insomma alle spalle io credo una cinquantina d'anni Di teatro ai più alti livelli E lui mi disse una cosa che mi ha proprio illuminato Mi disse È la stessa cosa che penso io ogni volta da 50 anni Quando si sta per aprire il teatro E il giorno in cui smetterò di pensare quella cosa Quello sarà il giorno in cui dovrò smettere Il giorno in cui smetterò di dire Ma chi me l'ha fatto fa Porca miseria che ansia Fatemi andare via Quello sarà il segnale che È ora di tirare i reni in barca E di non fare più il teatro E questa cosa è stato Un capovolgimento di prospettiva Che mi ha veramente aiutato E invece qual è stata la prima Penso che un poettino ancora ti ristà La prima sensazione quando hai visto la prima volta Il leggio davanti In realtà davanti non c'avevi un pubblico Ma c'avevi lo schermo che poi Voi lavorate con la visione degli occhi L'osservazione degli occhi Dell'atteggiamento Che ti permette di capire poi la battuta finale Però qual è stata la tua prima sensazione Se quella sensazione Anche se è cambiata un pochettino Te la porti dietro Davanti a questo leggio Allora guarda Il mio primo turno è stato Proprio con Massimo Giuliani Ed era un turno di integrazioni E di brusio Proprio di piccole cose sullo sfondo In Don Matteo 4 Pensa Quindi era una cosa italiana C'erano tutti i carabinieri Che passavano sullo sfondo Che erano comparse Non microfonate Quindi gli si vedeva parlare Fare azioni Che gli avevano detto di fare Ma non si sentiva nulla E noi dovevamo riempire Quella roba lì Che loro dicevano Massimo ha scritto Intere pagine Di adattamento Inventate Per far dire a questi carabinieri Le cose più impensabili E noi le dovevamo dire La mia prima emozione Quando mi sono trovato lì Sai Più che pensare Davanti a me Non ho un pubblico Ho un leggio E un microfono Quello che ho pensato è stato Intorno a me C'è il mio sogno di bambino Cioè È tutto qui Sto vivendo Il mio sogno Quel sogno che era talmente grande Che mai avrei pensato Di potermici nemmeno avvicinare E sono qui E quindi la mia prima reazione È stata assolutamente Di terrore Totale Di quello Sai che ti soffoca Non mi usciva la voce Era tutta bloccata così Non riuscivo a emettere più di così Perché ero tutto contratto Tutto teso Infatti Massimo mi diceva Oh però Tirala fuori sta voce Se no così non ti sente Va bene Va bene Massimo Ok adesso dai Sono pronto Incidiamo Sì buongiorno Dobbiamo fare Ero tutto chiuso Completamente chiuso E ci ho messo un sacco Per capire come Scavallare questa cosa qui Ovviamente questo terrore Adesso non c'è più Fortunatamente Perché se no Era davvero il caso di smettere Però è rimasta l'emozione È rimasta l'emozione La gioia Di vivere il sogno E ovviamente Andando avanti Con Con gli anni Non ho fatto Ho smesso di fare Brusio Ho cominciato a fare Piccoli ruoli Poi i ruoli piccoli Sono diventati Non più così piccoli Poi ho iniziato a fare Anche dei ruoli Da protagonista Da coprotagonista Quindi insomma Comunque ruoli corposi E adesso Come adesso Mi barca meno Da un punto di vista emotivo Fra La gioia Di vivere Appunto Il mio sogno di bambino E l'incredulità Ci sono dei momenti E su questo Ci ridiamo spesso Con mia moglie Sara Ferranti Che è una collega È una doppiatrice Anche lei E anche lei E lei ha fatto Un percorso molto simile Al mio E anche lei Nasce come fan Del doppiaggio E oggi Che siamo entrambi I doppiatori E doppiamo belle cose Insomma ci capita Di avere le nostre soddisfazioni E la maggior parte Dei nostri amici Più cari Sono anche dei colleghi Sono doppiatori Molti sono Doppiatori Dei quali eravamo fan Da ragazzi Ancora adesso Ci capita Di non credere Cioè di guardarci Ogni tanto un attimo Da fuori E dire Ok Io sto facendo un film E sono a Leggio Con Francesco Prando Non è possibile E invece sì E quindi Appunto Gioia Grande divertimento Ma anche incredulità Perché ancora Non ci sembra possibile E incontrare una persona Accanto Sentire la voce E chiamarlo Col personaggio A cui è interpretato Perché in fondo Siamo cresciuti Con quel personaggio Esatto Esatto E invece Tecnicamente Nel tempo Che cosa è cambiato Visto che C'è stata la pandemia C'è stato Diritti d'autore E Quanto effettivamente Si è stretto Un pochettino Soprattutto anche Per la nuova generazione Che ha difficoltà Può entrare Ma non solo Per poter lavorare Ma per poter imparare Ascoltando Anche voi Professionisti Che attualmente Lavorate C'è difficoltà? C'è enorme difficoltà Enorme difficoltà E io Avendo iniziato Da non figlio d'arte Quindi da esterno Che dopo aver studiato Con Massimo Giuliani Poi ho fatto anche io La mia bella Lunga gavetta Seguendo i turni Assistendo ai turni Di colleghi Molto più bravi Di doppiatori veri Insomma Perché io ero proprio Un esordiente Meno di un esordiente Quel percorso Che io ho avuto modo Di fare in sala Assistendo Si dice impropriamente Rubando un po' Le cose Ah vedi Come ha risolto Questa battuta Adesso è molto problematico Riuscire a farlo È praticamente impossibile Perché Tra la pandemia Che ha imposto Delle regole sanitarie Che ci hanno obbligato Fondamentalmente A lavorare Quasi sempre da soli In sala Sempre da soli In sala Si sta riniziando Un pochino adesso A rifare dei turni A due A tre Ma È molto molto raro E soprattutto Come dicevi Giustamente Le imposizioni Per questo Fantomatico Diritto d'autore O meglio Per un fantomatico Protocollo Antipirateria Come se la pirateria Dei film Partisse dal doppiaggio È molto difficile Accedere Agli stabilimenti Ti dico soltanto Io Questo è un aneddoto Che racconto spesso Un giorno Ero dovuto andare A prendere Mia moglie Perché Lei finiva un turno In uno studio Al quale era arrivata Con i mezzi E io dovevo Passarla a prendere Con la macchina Perché poi Non mi ricordo Avevamo una commissione Da fare Ed era uno studio Nel quale io Lavoro abitualmente Ci ho lavorato ieri Quel giorno Io non ero Fra i doppiatori Previsti Dal piano di lavorazione Per i turni In quello studio E non mi hanno fatto entrare Perché non ero Nel piano di lavorazione Quindi Molto spesso Dei ragazzi Magari che stanno Cercando di iniziare Mi chiedono Ma sarebbe possibile Magari venire a seguire Un tuo turno Io rispondo a tutti i ragazzi Dipendesse da me Sì Perché io ho iniziato così Ed è giusto Che voi possiate farlo Ma la situazione è questa Purtroppo non vi fanno entrare Ed è veramente tragico Veramente Veramente tragico Io spero che questa cosa Un po' si sblocchi Perché Ripeto Per me Che ho iniziato Il mio percorso Proprio in questo modo È davvero doloroso Vedere Quanta chiusura c'è adesso Io esco dai miei turni Di doppiaggio E trovo fuori Dagli stabilimenti Stuoli di ragazzi E ragazze Accampati In attesa Che qualcuno Li ascolti O anche soltanto Li degni di uno sguardo E Rivedo me stesso Quando ho iniziato Soltanto in peggio Perché quando ho iniziato io Almeno ci facevano entrare Almeno aspettavamo seduti Sui divanetti dentro Quindi è proprio una cosa Davvero spiacevole Io mi auguro con tutto il cuore Che questa tendenza cambi Perché C'è bisogno di voci nuove C'è bisogno di Di linfa fresca Per il nostro mestiere E poi gli anni Comunque passano per tutti Certo E anche dialoghista Perché noi spesso dimentichiamo Che il dialoghista È la parte Tecnicamente Una dei più importanti Perché prepara tutto Il restante Eh sì Assolutamente Infatti molti Molti direttori Scelgono di farseli loro I dialoghi Per i loro film Per le loro serie Beh il direttore di doppiaggio Sta al doppiaggio Di un'opera Come il regista Sta alle riprese del film Quindi È proprio il direttore artistico A tutti gli effetti Un buon direttore Ti mette davvero Nelle condizioni Di spogliarti Di te stesso E di vestirti Di quello che ha fatto L'attore Che stai andando a doppiare Sullo schermo Io recentemente Ho doppiato un film Per la direzione Di Alessandro Rossi E Alessandro Ha fatto un lavoro Straordinario Che davvero Sempre più di rado Ci capita di poter fare Mi ha veramente Decostruito Pezzo per pezzo E mi ha Riassemblato Partendo sempre da me Dalle mie capacità Dalla mia cifra Ma mi ha Riassemblato In modo da poter Aderire al meglio Sull'attore bravissimo Che è Glenn Powell Che ho doppiato In questo film Molto divertente Che si chiama Hitman Che uscirà a giugno Un buon direttore È determinante È determinante Perché è quello Che ti sa indirizzare È quello intanto Che ha la visione Di insieme Più completa Dell'opera Che si sta andando A doppiare È quello Che l'ha vista tutta Che la conosce Che quindi Ne conosce anche I risvolti Recitativi Emotivi Tecnici Perché no Ed è quello Che proprio Sulla base Di questa conoscenza Del prodotto Ha il compito E la responsabilità Grandissima Di scegliere Le voci giuste Scegliere Gli attori doppiatori E attrici doppiatrici Giusti e giuste E poi Di indirizzarli Su quel cammino Che è già stato tracciato Cioè Non ci dobbiamo inventare niente Ci ha già pensato Un regista Ci ha già pensato Un montatore Ci ha già pensato Un cast di attori In video Noi dobbiamo soltanto Cercare di allinearci E di riproporre Il più fedelmente possibile Quello che loro hanno fatto In un'altra lingua Per un'altra cultura Io lo dico sempre Il doppiaggio È uno strumento Di mediazione culturale Quindi è una bella responsabilità Il direttore Che si approccia Consapevole Di questa responsabilità È quello che Ti permette Di dare davvero Il meglio E chiaramente Altrettanto determinati In questo processo È l'adattamento Dei dialoghi Che è un mestiere Straordinario E straordinariamente Complicato Perché È lì Il vero fulcro Proprio È una cosa Che va a mutilare Il nostro lavoro Perché noi Non dobbiamo Prediligere La letteralità Ma la letterarietà Noi dobbiamo restituire Le emozioni Il pensiero La cosa che fa ridere In inglese Non fa ridere in italiano Ma magari C'è un equivalente Nella nostra lingua Nella nostra cultura Che pur non usando Le stesse parole Pur non usando Gli stessi modi di dire Crea lo stesso effetto comico E allora noi Quello dobbiamo Dobbiamo andare a cercare E chi se ne frega Se lui in originale Ha detto una cosa Una cosa diversa L'esempio stra abusato Ma c'è un motivo Se è stra abusato È Frankenstein Junior Dove Cioè È un capolavoro Della comicità In inglese E capolavoro Della comicità In italiano Restituisce perfettamente L'atmosfera E il senso Delle battute Che venivano dette Nella versione originale Stravolgendole Perché l'unico modo Per restituirle Era stravolgerle Quindi Il ruolo dell'adattatore È veramente centrale E determinante Se l'adattamento Non è fatto bene Più di metà del turno Se n'è andato Va a cercare di mettere pezze A un adattamento Appunto A un adattamento inadatto E comunque poi Il risultato Sarà apporsimativo Sarà Così Sciatto Ecco Mettiamola così Infatti nel Nel film Dice Frankie Stengel In realtà Lui dice Licantro Pollà E Castellullà Ma in realtà Poi la traduzione Italiana Effettivamente Non aveva senso Geniale Quindi Lupululli Castellullullà Che poi Come parli Come parla lei Lei è padrone Quindi Geniale Esatto A volte Si diceva In passato Che la voce Bella È indicativo Però A volte Non è la voce Che è indicativa Ma il personaggio Che si sceglie La voce Può essere Diversa Effettivamente Ma adatta Le carattese Per esempio Banale Pietro Ubaldi Quando doppia In Top Gear Jeremy Clarkson Che in realtà Ha una voce Molto profonda E Pietro Ubaldi Trasforma In modo Divertente E rende Il personaggio Anche se Grosso Fitticamente Lo rende Molto divertente Certo Guarda Io qui Rubbo di nuovo Le parole Del mio maestro Massimo Giuliani Lui ci diceva La prima cosa Che ci ha detto Alla prima lezione Di doppiaggio Disse Parlo ai maschietti Per favore Non usate la voce Come se fosse Un prolungamento Del vostro membro Prima cosa Secondo Preoccuparsi Della voce Quando si fa doppiaggio È come preoccuparsi Del tubo di scappamento Quando si deve comprare Una macchina nuova Serve Perché serve Il tubo di scappamento Ma è l'ultima cosa È in fondo C'è un universo Di roba Prima E in primo luogo C'è appunto Come dici giustamente tu La recitazione Bisogna scegliere Un attore Che sia in grado Di aderire Recitativamente Alla faccia Dell'attore in video Perché poi La voce Dell'attore originale In Italia Non la sente nessuno Nessuno che veda Il film doppiato Quindi tutti Devi incollare Sulla recitazione Facciale Se su quella faccia È giusto Un certo tipo Di recitazione Un certo tipo Di attore Che ha un certo tipo Di vocalità Va bene Quell'attore lì È chiaro Sempre La decisione Va sempre presa Si dice Con un grano salis Ovviamente Nessuno distribuirebbe Pietro Ubaldi Per quanto bravissimo E straordinario Su un attore Di 15 anni Quindi va sempre Va sempre calibrata La cosa Però La voce È l'ultima cosa Alcuni Alcuni direttori Anche alcuni clienti Cercano anche Un'aderenza vocale Lì Si tratta comunque Poi di commisurare E di andare a lavorare Sulla recitazione E non sulla voce A meno che Non si stia doppiando Un cartone animato Dove La caratterizzazione Del personaggio È invece Determinante Lì Sì L'aderenza vocale Può avere Un senso Più Più intrinseco A quello che si sta andando a fare Ma se si doppia Un attore Un'attrice In carne e ossa Ci si deve adattare Alla faccia Agli occhi Come hai detto giustamente tu E intanto Ti è capitato mai Di entrare in sala Non sapere A volte capita Che non si sa Che cosa si va a doppiare Però Magno qui Ti partono le prime immagini Perché poi Inizialmente Vedi per la prima volta Poi Vai a fare La battuta La riga Che Quel filmato Ti accorgi E dice Ma effettivamente Era una cosa Che mi piaceva Pensavo di farlo Ma non pensavo E chi farlo In quel momento Mi è capitato Mi è capitato Di doppiare cose Che magari Stavo aspettando Serie o film Che magari stavo aspettando Da fan Perché io comunque Torno a dire Sono sempre stato Un nerd Quindi ci sono Tutta una serie Di prodotti Di storie Che io amo A prescindere Dal mio lavoro E mi è capitato Assolutamente sì Mi è capitato Per dirne una Quando sono stato chiamato Da Fabrizio Mazzotta Per doppiare Il reboot Dei Masters Di E-Man Su Nell La serie animata Su Netflix Era una delle mie serie Animate preferite Di quando ero bambino E ho doppiato Battle Cat La tigre di E-Man Quindi loro mi avevano detto Guarda Hai un turno Con Fabrizio Mazzotta Io sapevo Che Fabrizio Stava dirigendo O stava per dirigere Una cosa Legata ai Masters E Masters Of The Universe E dentro di me Pensavo Speriamo che sia Quello Che sia magari Anche una piccola cosa Entro in sala E mi dicono Sei Cringer Il gatto Del principe Adam Che poi si trasforma Nel possente Battle Cat E io dico No Nel mio studio Ho il giocattolo Di Battle Cat Degli anni 80 Quindi per me È stata proprio Una cosa Potentissima Veramente potentissima Mazzotta L'abbiamo intervistato Anche quindi Invece Vedendo il nostro sfondo Che cosa ci sai dire Di questi personaggi Che effettivamente Abbiamo citato alcuni Perché La tua lista È così lunga Che A per scorrere Con Con Lo screenshot Il telefonino Non finiva mai Diciamo E forse Probabilmente Mancano altre cose Che cosa ci puoi raccontare Di questi personaggi Guarda Ti racconto Prendo i tre Che mi sono più cari In assoluto Vado Dalla mia destra Il Meraviglioso Serial killer Della serie Anime Psycho Pass Quella è stata Un'esperienza Quasi mistica Doppiare Doppiare quel personaggio Perché Richiedeva intanto Una Una recitazione Molto particolare Aulica Ma comunque Molto asciutta Anche quello L'ho fatto diretto Da Fabrizio Mazzotta Tra l'altro Un personaggio Un personaggio di una Profondità E di una cultura Nella sua collia Nel suo Orrore Perché era una serie Veramente cruda Disturbante Per tantissimi versi Ma era un personaggio Di una Appunto Di una profondità Di una cultura Di una poesia Nel male Pur nel male Che doppiarlo È stata davvero Un'esperienza illuminante Poi Era un personaggio Che Anche nel compiere Le feratezze Più folli Anche quando Sembrava Tutto contro di lui Comunque Manteneva una calma Una Una compostezza Aveva sempre Il controllo Della situazione Almeno in apparenza E quindi Era bellissimo Cercare Insieme a Fabrizio Poi una cifra Per restituire Le emozioni Che lui dava In originale Senza però Perdere mai Questa linea Così posata Così Anche un po' Inquietante È stato bellissimo Veramente bellissimo Io Confesso Non sono un grande amante Degli anime Questo mi è rimasto Veramente dentro È una cosa È un lavoro Del quale vado Estremamente Estremamente fiero Poi mi sposto Al centro Con l'immagine Che domina Lo sfondo Che è il meraviglioso Serpentius Che ho doppiato Recentemente In Husband Hotel La serie Che è in onda Su Amazon Prime In streaming Scusate Io sono ancora Preistorico Ancora in onda Alle 20 e 30 In prima serata La serie La serie che è in streaming Su Amazon Prime E anche questa è stata Un'avventura bellissima Intanto perché L'ho portata avanti Con un gruppo di amici Di persone Artisti Meravigliosi Amici Meravigliosi Era una serie Era una serie Della quale Io non sapevo Assolutamente Nulla Nonostante Avesse già Un grande Seguito Su Youtube Perché Nasce da un pilot Autoprodotto Dalla creatrice Vivian Medrano Lei ha creato Questo pilot Questa storia Folle Di redenzione Ambientata all'inferno E l'ha messo Su Youtube E in poco tempo È diventato Un fenomeno Culturale Di massa Tanto che Amazon E A24 Hanno acquistato I diritti E l'hanno prodotto E ne hanno fatto Una serie E io tutte queste cose Non le sapevo Me le ha dette Rossa Caputo Che doppia la protagonista Charlie Charlie Stella del Mattino La figlia di Lucifero Che apre questo hotel All'inferno Dedicato alla redenzione Delle anime perdute Rossa Sapeva già tutto Lei ha seguito Le vicende creative Di Vivian Medrano Fin dagli esordi E mi ha detto Ci sta arrivando Una serie bellissima Che abbiamo distribuito Su uno dei personaggi Più fighi La devi fare Trova i turni Per carità Perché ci tengo Proprio che la faccia tu Mi ha spiegato Tutta la storia Appunto Di questa autrice Di questa animatrice Indipendente Che è passata da Youtube A24 Fino a Amazon E mi ha Contagiato con la sua passione Perché poi Rossa È un vulcano Di passione Assolutamente Appunto contagiosa Perciò ho detto Cavolo Sì Se questo è il tipo di lavoro Ma che meraviglia Quindi sono andato in sala Senza sapere bene Che cosa avrei fatto Come direttore Avevamo Oreste Baldini Artista totale Meraviglioso attore Splendido direttore Persona fantastica Straordinario scultore E anche pittore Persona di una cultura sublime E ha riversato E ha riversato La sua cultura E il suo folle Estro creativo In questa folle E super creativa Serie animata Serie animata Per la quale Eccezionalmente Ci è stata data Totale libertà Non avevamo tabù Non c'erano cose Che non si potevano dire La distribuzione Del direttore Era la distribuzione Del direttore Nessun cliente Ha messo bocca No Qui non ci vedo bene Sto pacciaro Mettimi quest'altro No Qui non ci vedo bene Lei Mettimi quell'altra È stata tutta una totale Libertà Ed è bello vedere Che il lavoro Che abbiamo fatto Al doppiaggio Per questa serie Sta avendo Ha avuto E sta avendo Un riscontro Di pubblico Meraviglioso Siamo sommersi Perfino io Comunque Serpentius Era un personaggio Abbastanza Passami il termine Di contorno Nell'economia globale Della storia Nonostante poi Abbia una sua Bella riuscita Finale Siamo sommersi Dai messaggi Di fan Della serie Che ci ringraziano Per il lavoro Che abbiamo Svolto Per il divertimento Per la passione Che si sente Ci dicono tutti questa cosa Si sente che vi siete divertiti Si sente che eravate liberi Di creare Di dare il meglio Che potevate fare E io A tutte queste persone Oltre al mio ringraziamento Sentito Dico Parlatene Di questa cosa Parlatene Perché è giusto Che chi usufruisce Di prodotti audiovisivi Doppiati Sappia come può essere Il doppiaggio Quando siamo messi Nelle condizioni Di farlo al meglio Delle nostre possibilità Viene così Una serie Un prodotto seriale Animato Piccoli episodi Da 20 minuti Di una serie indipendente Che poteva essere liquidata Come l'ennesima serietta animata Da fare In 4 e 4 8 Con le prime voci Che capitano È stata trattata Con rispetto Con passione Con emozione Con creatività E questo è il risultato Quindi siamo ancora in grado Di fare un grande doppiaggio Se solo ce lo lasciassero fare Vado a sinistra E quello è Il ruolo più recente Che ho Che ho ricoperto E è anche Uno di quelli Che mi emoziona di più Perché Oltre a essere Un attore straordinario Kumail Nanjiani Ho avuto l'onore Di doppiarlo Nell'ultimo film Di Ghostbusters Della saga di Ghostbusters Ghostbusters Minaccia glaciale Io sono Un fan Sfegatato Degli Achiappa Fantasmi Il mio amore Per il doppiaggio Nasce Quando mi sono innamorato Dei doppiatori Dei Ghostbusters Parte tutto da lì E Ho avuto La fortuna Di essere chiamato Dal direttore Fabrizio Pucci Per fare il provino Su questo attore L'ho vinto Ed è stata Per me è stata Veramente un'emozione Sono proprio tornato bambino Oltre a essermi divertito Come un pazzo Perché lui Fa delle cose In questo film Da spaccarsi Da ridere Però ecco Oltre al divertimento C'è stata proprio La consapevolezza Ok Sto doppiando La mia saga preferita Adesso Devo mettere Proprio La passione Del bambino Edoardo Che giocava Con i pupazzetti Degli acchiappafantasmi E la professionalità Del doppiatore Edoardo Che ha gli strumenti Per fare al meglio Il proprio lavoro Quindi È un personaggio Al quale sono Veramente molto 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 legato E che spero In futuro Possa avere magari Degli sviluppi Dei risvolti In eventuali Prossimi film Chissà E allora Film Telefilm Cartone animati Serie animate Sop opere Videogiochi Videogiochi Pochi Ma buoni Nel senso che Perlomeno Quelli che ricordo Sono Ho fatto Ricordo Due turni Polly Faticosissimi In un videogioco Del Signore degli Anelli Altra saga Che ho Veramente nel cuore Saga cinematografica E non videoludica E lì ho fatto Veramente tutti Ho fatto Credo di aver doppiato Addirittura Sauron Lì In una piccola clip E poi ho fatto Vari orchi Qualche elfo Un po' diversi Di gente che veniva Uccisa E poi Oltre a questa cosa Ho doppiato Dei personaggi miei Ho doppiato La versione videoludica Di dei miei personaggi Il primo è stato Emil Il topo ciccione Di Ratatouille Che è stato il primo ruolo Importante che ho fatto In un film di animazione Al cinema In un videogioco Disney Dove Dove compariva Emil E poi Quello che ho fatto Più spesso Nei videogiochi È Darth Maul Il personaggio Che doppio Che è dalla serie animata Clone Wars In poi Doppio Nell'universo Di Star Wars Di Guerre Stellare Ma nelle serie tv È passato anche Supernatural Si è passato Si Si è passato Ma Cioè Le lengue così Tanti Di cose È incredibile Perché Cacciatori Di Appunto Quello Di demoni Di fantasmi E poi In cartoni mati E poi In Supernatural Con Con il trickster Quindi È spaziato Tanto Passare Dall'uno Nell'altro In fondo Qualche tuo collega Mi ha detto È come salire Su una seggio L'agnopsicologo Cioè Uno Nessuno Centomila Perché la mattina C'è una cosa A volte Ci si dimentica Ti capita Dove hai Di entrare In una sala Oppure Ascoltare un video E dire Ma E questa voce Io la conosco Ma poi Poi ci riprendi Ma in fondo Sono io Se è capitato Accidentalmente Perché forse L'abbè fatto Un po' di tempo fa Sì Ogni tanto Capita Magari Che qualche Direttore Mi chiami Su attori Che ho doppiato Dicendomi Sai Questo è un attore Che hai già fatto E magari L'ho fatto Dieci anni fa In una piccola cosa Perciò Per lì Magari sulle prime Neanche mi ricordo Dico Ah sì Ma sei sicuro L'ho fatto io Boh Ok Magari vedo la faccia Sì potrebbe essere Poi lo sento parlare Sì succede quello Che hai detto tu E dico Eccolo chi era Certo Certo Come no Ora Ora mi è familiare Sì 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 Succede Assolutamente E invece E invece a volte Voi Qualche Tuo collega Come Ciliano Che abbiamo Anche lui Ascoltato Ha detto In fondo Noi doppiamo Cioè Non facciamo Operazione A cuore aperto Ma in realtà La vostra presenza Nel mio mondo Perché faccio anche L'infermiere In questo caso La vostra presenza Per noi È quasi Da accompagno Perché ci sono persone Che vedono I telefilm A volte Si vedono I film Sul telefonino A volte E Quei momenti Forse Rilassatezza Li passano Ascoltando Le vostre voci Certo È certo Questa è una Delle grandi Io credo Che sia proprio Un servizio Che il doppiaggio Può offrire Sai Dicevo prima È uno strumento Di mediazione Culturale Come Di tutti gli strumenti Uno può tranquillamente Scegliere di non avvalersene Soprattutto oggi Come oggi Dove è possibile Vedersi le cose In lingua originale Senza nessun problema È il motivo Per cui io Non capisco Le varie crociate Contro il doppiaggio Contro questa barbarie Perché siete Stuprate L'originale Veditelo in originale Lo puoi fare Tranquillamente Al cinema In televisione Puoi farlo serenamente Ti stavo dicendo Il doppiaggio È uno strumento Di mediazione Culturale Così come Strumento di mediazione Culturale Sono i sottotitoli Entrambi Entrambi gli strumenti Comportano dei compromessi Il compromesso Che comporta Il doppiaggio Qual è? Quello che Appunto Non ti permette Di sentire La voce Dell'attore O dell'attrice In originale Perché c'è Una voce italiana Sovrapposta Il compromesso Al quale Devi sottostare Se invece Preferisci I sottotitoli È leggere Guardare Leggere Guardare E leggere Una roba Che comunque Non è esattamente Quello che stanno Dicendo loro È un riassunto Perché non può Eserci scritto Tutto quello Che dicono loro Perciò Comunque Devi rinunciare A qualcosa A meno che tu Non sia Perfettamente E intendo Perfettamente Bilingue Madrelingua Della lingua Originale Del film Che stai guardando Quindi Comunque A qualcosa Devi rinunciare Quelli che si sbracciano Attaccando il doppiaggio E dicendo Meglio i sottotitoli Sì Meglio per te Magari Per un'altra persona Che invece vuole Semplicemente Rilassarsi Come dicevi Giustamente tu O Godersi Una cosa In santa pace O magari Proprio una persona Non vedente Che i sottotitoli Non può leggerli Per forza Il doppiaggio È un compromesso Migliore Quindi Io non critico Chi se la prende Con il doppiaggio Critico Chi se la prende Con il doppiaggio In toto Cioè È giusto Prendersela Con il cattivo Doppiaggio Ma Dire I sottotitoli Sono meglio Del doppiaggio No È sbagliato È come dire Questo film è brutto No Questo film Non ti è piaciuto È diverso Stiamo parlando Di soggettività Io preferisco Il doppiaggio Tu preferisci I sottotitoli Posizioni Entrambe legittime Fate pace Con questa cosa Basta È tutto Il problema Dell'intelligenza Artificiale Perché Adesso va di moda Parlare Dell'intelligenza Artificiale Quando In realtà Molto spesso Non ce l'abbiamo Anche dentro Una macchina Che si chiama Navigatore Che si chiama Soltanto che gli abbiamo dato il nome Navigatore Ma è un'intelligenza artificiale Che ti dice dove sei Perché è collegato a qualcosa È un danno Può essere È un quanto Può essere pericolosa Per il mondo Può essere un danno Allora è un danno Ogni qualvolta viene utilizzata Per sostituire La creatività Umana E parlo di recitazione Parlo di illustrazione Parlo di musica Parlo di letteratura Parlo di Qualunque ambito artistico L'intelligenza artificiale Usata Al posto Dell'intelligenza umana In ambito creativo Artistico È il male Senza se E senza ma Non ci sono Non ammetto Discussioni In questo senso Eh ma no Ma comunque è uno strumento No Attenzione È uno strumento Nel momento in cui tu La usi per Elaborare un colore Per farti suggerire Un colore Che in quel momento Non trovi E l'intelligenza artificiale Magari te lo trova Se la usi In quel modo È uno strumento Ma se tu Apri la tua bella pagina Di software O di quello che cavolo è E scrivi Voglio un Disegno Di un castello in fiamme Con sopra Un drago piumato Che vola Sorseggiando te E in cinque minuti Tu quel disegno assurdo Ce l'hai Quello è il male Non esiste Altro discorso Possibile E immaginabile Ovviamente la cosa Si applica anche Nel nostro mestiere L'intelligenza artificiale Usata per Riproporre qualcosa Che non può essere Creato artificialmente E cioè L'emotività L'emotività Umana Che noi esprimiamo Attraverso la voce Attraverso la recitazione È un abominio Per questo motivo Va normata E ci si sta attivando Per normarla In modo serio E stringente Va normata Va conosciuta E Ci dobbiamo difendere Noi abbiamo Una sola Forma di tutela A mio parere Per tutelarci Contro L'avvento Di queste tecnologie Di queste intelligenze Artificiali generative Di questo Machine learning Viene definito Recuperare La nostra qualità La qualità Del nostro lavoro Recuperare Abbiamo recentemente Rinnovato il contratto Collettivo nazionale Del doppiaggio È un contratto Che ci ha Ottenuto Dei tempi Di lavorazione Più Più comodi Rispetto all'ultimo Che ha Comportato Un adeguamento Alle modalità Di lavorazione Attuali Che nel vecchio Contratto Mancava Perché era Un contratto Vecchio Di 15 anni Tutto questo Per riappropriarci Progressivamente Sono poi previsti Anche degli aggiornamenti Del nuovo CCNL Per riappropriarci Progressivamente Della nostra qualità Perché Quello che io Dico sempre È Se ci mettete In condizione Di lavorare Come macchine In batteria È ovvio Che la macchina Vince Metteteci in condizione Di lavorare Come esseri umani A quel punto Non c'è macchina Che possa reggere Il nostro passo Non c'è macchina Né mai ci sarà Il famoso detto Tecnicamente È capitato Che Ho sentito dire Tecnicamente Perfetto Ma Risultava piatto Perché Non c'erano emozioni Esatto C'è il rischio Anche questo? Assolutamente Assolutamente Sì Guarda Io È un mio cruccio Perché non riesco più A trovarlo Ma ho visto Qualche mese fa Un video Su YouTube Dove confrontavano Non so se Hai mai visto Codice d'onore La tirata La tirata finale Di Jack Nicholson Tu non puoi Reggerla La verità Il colonnello Jessup Il video Era diviso In tre parti La prima parte Era la tirata In lingua originale In inglese Con Jack Nicholson Da brivido La seconda parte Fatta Con il doppiaggio Storico Di Michele Gambino Meraviglioso E la parte La terza parte Del video Era sempre La stessa tirata Doppiata Con l'intelligenza Artificiale Il labiale Di Jack Nicholson Era in italiano Muoveva la bocca Con le parole italiane Tu non puoi Reggerla La verità E la voce Che parlava In italiano Era la voce Di Jack Nicholson Impressionante Detto ciò Posso usare Un francesismo? Certo Faceva cagare Era ridicola Non c'era Non è Guarda Dire che non c'era Emozione È un eufemismo Era proprio Un radiotaxi Quindi Di che cosa Stiamo parlando? Tutti dicono Sì Adesso è così Ma fra dieci anni Vedrai che cosa Sarai in grado di fare Comunque Non sarà in grado Di fare neanche Un'unghia Di Michele Gambino Fra dieci anni Ma neanche fra cento Perché Michele Gambino Ha una cosa Che L'intelligenza artificiale Più evoluta Non potrà mai avere Un'anima Molto semplicemente Sì Tra tutti i personaggi Che hai fatto Perché Tra le liste Invenzionate C'è quello Che in realtà Parlando di tecnica Ovunque Di recitazione Ti ha sorpreso Ma soprattutto Ti ha messo Non diciamo Difficoltà Però Ti sei dovuto Concentrare Più al massimo Rispetto Alle soliti Atteggiamenti Che ti ha permesso Poi però Ottenere il risultato Che ascoltandolo Ti dici Era quello Che pensavo Di fare E ci sono riuscito Guarda Io Evito quasi sempre Di ascoltarmi Perché Adesso sembra Quello che fa Il film Finto modesto Ma Chi mi conosce Sa che è così Io Dopo vent'anni Che faccio questo mestiere Ancora Fatico a sopportare La mia voce Riascoltandomi Quindi se posso evitare Di sentirmi Evito Cerco di forzarmi Perché ritengo Che riascoltarsi Sia una parte importante Del nostro mestiere Tante volte Risentendoti E ricordando Magari come era andato Il turno di doppiaggio Dici Ecco Ho capito Qual era Che cosa voleva dire Il direttore Quando mi diceva Che non riusciva A ottenere Quella particolare Cosa da me Eccola Ma ho capito Che cosa non gli ho dato E quindi Diventa un'occasione Di crescita Per rispondere Alla tua domanda Mi vengono in mente Due ruoli Uno Quello che citavo Poco fa Il più recente In assoluto Che è Ho doppiato Glenn Powell In questo film Hitman Che uscirà a giugno E Quello è stato Tecnicamente Molto 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 Complicato Perché Lui Glenn Powell Interpreta un personaggio Il personaggio Interpretato Da Glenn Powell Nel film Ne interpreta Dozzine Di personaggi Tutti completamente Diversi Uno dall'altro Alcuni di questi personaggi Sono lontani anni luce Da me Dal mio modo Di parlare Di pormi Di recitare Anche dalla mia vocalità Alcuni Quindi è stato Un lavoro Tecnicamente Molto Molto Complicato Riuscire a ricalibrarsi Ogni volta Per stargli appresso E Sono curioso Di sentire Che cosa Che cosa è venuto fuori Anche se Torno a dire Essendo stato diretto Da Alessandro Rossi Sono ottimista Sul risultato Il secondo Che mi viene in mente Quanto a difficoltà È stato Un attore Bravissimo Inglese Che ho doppiato Nel film Crudelia Di Walt Disney Era il live action Su Crudelia De Mon E l'attore E l'attore era Paul Walter Hauser Che doppiava Horace Uno dei due Gaglioffi Scagnozzi Di Crudelia De Mon Quello Quello più Tarchiato Cicciotto E lui Ha una vocalità Estremamente Desgranata Molto Molto culturale Quindi Tecnicamente Vocalmente È stato molto Faticoso Seguirlo Perché la vocalità Era proprio Parte integrante Della sua recitazione E del suo personaggio E poi aveva Dei modi Rozi Da Bassa Working class Londinese Degli anni Sessanta Settanta A tratti Anche un po' Tontoloni Ma non stupidi Ed è un modo Di recitare Che io faccio Sempre molta fatica A prendere Tant'è che Al primo turno Alla fine Del primo turno Primo turno Devastante La direttrice Fiammaizzo Mi disse Edo Speriamo Che ai prossimi turni Vada meglio Cerchiamo di trovare Una soluzione Perché se no Io qui ti devo sostituire Perché non stai riuscendo A fare quello Che fa lui Io sono tornato a casa Mi sono massacrato Di Di pensieri Come posso Come posso Aderire meglio A quello che fa lui Ci ho riflettuto Ci ho pensato Non ci ho dormito la notte E dal secondo turno in poi Abbiamo ingranato E poi la cosa La cosa è andata Ed è stato uno dei ruoli Per il quale Ho ricevuto Più complimenti Anche da tanti colleghi Che mi hanno detto Ma sai che non Ti avevo riconosciuto Minimamente Ho aspettato I titoli di coda Per vedere Chi aveva doppiato Quel personaggio E quando ho scoperto Che eri tu Non ci potevo credere E per un doppiatore Non ti ho riconosciuto È il complimento Più bello Che si possa fare Drastico E una volta Questa è il tema Un'altra volta C'era di moda Di utilizzare Tutti gli aletti italiani Dalla stata Che si parlava Il ciociaro Il napoletano Che era sport Anche se abitava a Milano Il napoletano C'era di mezzo Comunque E se Io ti porrei La domanda Se quel personaggio Di Ghostbuster Fosse nato in Italia Come parlerebbe Facendo quella voce Utilizzando quelle parole Del personaggio Come lo rappresenteresti Un dialetto italiano O comunque Nell'italiano Non classico Ma Eh sai che Forse mi verrebbe Da farlo Perché lui comunque È un personaggio Molto molto simpatico Molto furbo Non privo Di una sua ingenuità Ma per questa sua vena Così un po' Un po' smaliziata Un po' Comica proprio Forse me lo immagino Ossettivamente Con un accento Partenopeo Ci poteva stare Avremmo visto Napoletano E quindi E poi Napoletano E faceva Quindi quando Gli dice Quando vuoi Se stanno Quando senti Che paura Ci guarda Nascondendo Esatto Esatto Io guarda Allora Noi ti ringraziamo Per essere stato Vospite Grazie a te Veramente di cuore Ci avete raccontato Ci hai raccontato Un mondo Del doppiaggio Nella tua visione Che è veramente Fantastica Sei Sei un grande professionista La lista Lo dimostra Grazie E soprattutto Gli attori Si pensa Che il doppiatore Sia quello Di punta In realtà Di film Telefilm Serie Esistono tanti Documentari E anche quello È un mondo Di doppiaggio Che sono importanti Per noi Che viviamo E Mastichiamo Quel prodotto E lo godiamo Cioè lo godiamo Certo Per rilassarci A questo punto Ci vengono Ci vanno Una cosa fondamentale I tuoi saluti Di persona Con i tuoi E soprattutto Se ci vuoi fare Qualche saluto Con qualsiasi Altro nome Qualche voce Di personaggio Noi accettiamo Volentieri Ma Con molto piacere Io Ti ringrazio Veramente Vi saluto Con tutto il cuore Sono felicissimo Di aver potuto Fare questa chiacchierata Di Di averti conosciuto Spero che ci sarà Modo in futuro Anche magari Di vederci Faccia a faccia Per Per fare due chiacchiere Dal vivo Quindi davvero Grazie Grazie di cuore E Beh Io Vi saluterei Con la voce Di Serpentius Di Asbin Hotel Vi ringrazio Per questa Bellissima chiacchierata Spero di tornare Presto A trovarvi Studio 7 TV E Sport Picciano Game Hanno presentato L'intervista di Pietro Ospite della vita Ore di campione Pieno di energie Il Sport Picciano Game Ci porta In una nuova dimensione Con passione E coraggio Siamo pronti a brillare E Studio 7 TV Ci guida Ad ogni pass Ad ogni sfida Ad affrontare Con orgoglio E con onore Siamo pronti a dare Il nostro meglio Con Pietro Come guida Il nostro spirito Non si rende mai Sport Picciano Game Studio 7 TV Intervista di Pietro Un cuore Ed un campione Ogni atleta Ha una storia Ogni momento È un'emozione Con coraggio Con determinazione Ciao 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 Ciao